3, 2, 1 Davide che proprio ieri si è prodotto in un merdaviglioso vlog dal titolo Lo voglio dire, lo voglio dire è il titolo del video di Davide cioè non nel senso che io lo voglio dire il video inizia con lui seduto comodamente sul divano che ci aggiorna sulle condizioni climatiche per poi partire con uno spoilerone tattico molto presto ci porterà in un posto che secondo lui piacerà a tutti allora è un posto frequentato indistintamente sia da uomini che da donne un posto che possono frequentare quando vogliono dalla regia mi suggeriscono ma sarà mica il gabinetto? Lui continua con i suoi aiutini dicendo che è curioso di vedere se sua moglie ha capito di cosa sta parlando, di che posto è anche se in realtà lui già gli ha detto tutto eh ma allora scusa che domanda è? comunque poi i buoni propositi continuano con il programmare tante belle gite fuori porta e chiede a sua moglie Chiara sei contenta? e lei sì visto lo scarso entusiasmo si ripiega con l'inquadrare una delle gattine di casa che sembra addirittura infastidita dalle attenzioni indesiderate del dado poco dopo la postazione cambia ce lo ritroviamo seduto in balcone si dice felice perché? perché oggi c'è il sole e si sta informando su internet per trovare un posto dove sia possibile sia pescare che nello stesso tempo fare anche il bagno eh tipo il mare? la butto lì così magari sbaglio ora cosa sta succedendo? che da quando sono tornati dalla fantastica vacanza a Monedia a lui è venuta voglia di viaggiare vedere i posti nuovi visitare i centri storici e quindi è tutto preso in questo lungo monologo dove viene ad esternare all'utenza quelli che sono i suoi desideri e si sente poco distante da lì uno sparo beh deve essere un vicino che... ecco poi la location cambia di nuovo siamo dove? siamo da troni il dado ci inquadra i monopattini elettrici di cui è perdutamente innamorato ma costicchiano e poi anche delle tastiere da gaming boy perché? perché l'idea sarebbe quella di creare a casa una sua postazione da gaming e proporre dei video a tema solita panoramica dei prodotti con annessa musichetta irritante lui che confonde i prezzi e si conclude questo merdaviglioso vlog ora giusto il tempo di raccoglierle dal pavimento e passiamo ad un altro personaggio personaggio che è arrivato in questa brutta parte di youtube ed ha catturato subito tutta l'attenzione in che modo? con la sua dichiarazione per Davide ed il suo corteggiamento continua video dopo video sto parlando di Lady che ha caricato altri due vlog uno in cui si reca dal parrucchiere e da una sistemata ai capelli giusto per risultare sempre carina e curata nell'altro invece mostra solidarietà nei confronti di Chiara per tutti gli insulti che riceve per l'aspetto fisico non proprio armonioso insulti che tra l'altro sta ricevendo lei stessa in quanto ritenuta troppo magra oppure offese del tipo si vede che se è un uomo o comunque cose del genere offese a cui Lady risponde invitando tutte le donne a non lasciarsi ingabbiare dagli stereotipi o dal giudizio degli altri ma di fare sempre tutto ciò che uno sente di fare e conclude il suo video con un balletto dove indossa delle calze a rete e una minigonna di colore rosa bene e noi passiamo ad un altro personaggio andiamo a parlare di Giuseppolo Tropp il quale ieri ha incaricato Rob il mito di pubblicare un video a nome suo dove appare in un letto di ospedale credo il reparto psichiatrico con piedi e polsi legati al letto a riprendere il tutto è lui stesso che si lamenta per il trattamento ricevuto solo perché era un po' nervoso quando bastava secondo lui solo somministrargli dei tranquillanti anche perché il fatto di vedersi legato lo incattivisce ancora di più pertanto appena ne avrà la possibilità intende denunciare tutto l'accaduto poi inquadra la sala infermieri e il video si interrompe e questo era l'aggiornamento in merito a Giuseppolo Tropp e passiamo infine al caos accaduto ieri che ha visto come protagonista la dama che dalle prime luci dell'alba ha iniziato a postare nella sua community screen dove mostrava le segnalazioni che stava ricevendo segnalazioni per violazione del copyright a sui stessi contenuti da lì a poco come suo solito ha iniziato ad accusare e minacciare denunce e diffite a destra e a manca urlando a gran voce che tanto non ha più nulla da perdere e quando la sua utenzia le ha chiesto perché stava succedendo tutto questo lei ha risposto che è solo l'ennesimo tentativo di tapparle la bocca perché? perché lei su youtube porta la verità incondizionata vabbè va caliamo un vero pietoso e sono stati in tanti i colori i quali hanno preso una posizione pro o contro la donna dopo tutto l'operato della sorianese è ben noto a tutti e da anni per l'occasione è tornato anche osservatore del tubo che ha dedicato tutto un intero canale alla dama il suo canale si chiama la dama rainbow dove tratterà solo quello che accade nel canale della dama nera Fabrizio ha saputo dell'accaduto e ha deciso di dare il suo parere in merito a questa brutta faccenda e l'ha fatto tramite un video in cui ridacchiando ripercorre l'intera faccenda e trova che quello che sta accadendo alla donna è praticamente un qualcosa di meritato perché? perché la sorianese non ha mai perso occasione di minacciare offendere diffamare addirittura il suo compagno Calli augurare la morte nonché inveire contro la qualunque insomma quindi perché mostrare solidarietà verso chi ha fatto sempre del male Fabrizio invita a non credere alle sue minacce di denunce perché? perché alla fine poi lei dice dice ma non denuncia mai nessuno Fabrizio in veste di la dama rainbow si è espresso anche in merito all'iniziativa di critiche costruttive e cioè quella di aiutare la dama ritenendo tale aiuto sprecato perché anzi sarebbe un ottimo castigo per lei perdere la monetizzazione dato che nel suo canale non porta belle cose anzi basta vedere quello che è riuscita a dire su Serena Veronica e lo stesso critiche pertanto secondo Fabri la dama doveva essere lasciata godersi la sua melma allora io non aggiungo commenti in merito a questa faccenda l'ho già fatto ieri postando quello che è il mio pensiero nella community del mio canale dando la possibilità a chi ha letto il mio commento di intervenire in maniera positiva o negativa a quello che è il mio pensiero perché chi mi segue sa che io non ho i commenti in approvazione ed ognuno è libero di dare quello che è il proprio parere se qualcosa viene trattenuto o rimosso non è da me ma è da youtube perché magari nel commento c'è qualche termine che youtube ritiene offensivo quindi state pur tranquilli che nel mio canale non vige la dittatura anzi bene che dire ho cercato di riassumere un bel po' di personaggi così da andare ad ampliare un po' quella che è la gamma degli argomenti anziché portare sempre o solo Chiara o solo Davide o comunque singoli personaggi beh certamente così si va un po' ad incentivare il lavoro perché anziché ascoltare una live o un vlog andiamo ad ascoltare magari due live più vlog per andare poi a riassumere il tutto e farcelo rientrare nei miei canonici dieci minuti di video però volete così e così facciamo bene io credo di aver detto tutto per oggi quindi non mi resta che augurarvi buona continuazione di giornata darvi appuntamento a quello che sarà il prossimo contenuto ma nel frattempo che succede tutto questo un bacio a tutti da Gossip grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti